Come risolverli così i problemi riguardo all'aggiornamento di Windows 11.3 H2 l'aggiornamento KB5039302 per quelli che hanno avuto problemi a fare questo aggiornamento il 30 di giugno è un aggiornamento rilasciato il 28 di giugno è possibile anche scaricarlo e installarlo manualmente se avete problemi se no in questo caso possiamo direttamente andare nella cartella quindi vai direttamente su questo pc scendi fino a giù fino a trovare così la cartella Windows scendi fino a giù fino a trovare la cartella Software Distribution ed eccola qua e all'interno di questa cartella ci saranno vari cache vari download che è scaricato attraverso Windows Update e altri software poi cancellare così tutte queste cartelle quindi facciamo continuo e cancelliamo queste cartelle sfondiamo anche il cestino e una volta fatto riavvia il tuo sistema operativo e vedi se puoi scaricare e installare questo ultimo aggiornamento per Windows 11 del 28 di giugno se non dovesse funzionare possiamo direttamente andare sui servizi possiamo andare direttamente sui servizi quindi vai a scrivere qua sopra sulla barra della ricerca servizi oppure puoi aprire direttamente questa scheda facendo tasto start quindi il logo di Windows sulla tastiera quindi schiaccia il tasto più la lettera R di Roma si aprirà così la schedina esegui qui vai a scrivere service con la s alla fine punto msc fai ok e si aprirà così la schedina servizi prendi fino a giù fino a trovare così il servizio di Windows Update se è spento devi attivarlo quindi il stato del servizio è in esecuzione quindi in questo caso a te se c'è scritto avvia avvia così i servizi tipo di avvio metti manuale e fai ok una volta fatto chiudi un attimo la schedina dei servizi e adesso andiamo a scaricare e installare manualmente l'aggiornamento quindi in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare così l'aggiornamento del 25 giugno 2024 quindi ultimo aggiornamento di giugno vai a cliccare su scaricamento quindi tu basta che copi così l'aggiornamento che devi fare quindi fai copia e lo inserisci qua ed eccolo qua su per 64 su per 64 è questo qua e vado a scaricare io ovviamente non posso installare l'aggiornamento perché a me è già installato quindi sicuramente mi dirà che questa versione è già installata nel tuo pc quindi l'aggiornamento deve finire sempre come .msu quindi deve finire come .msu se no non potrai installare quindi cliccaci sopra e scarica e installa l'aggiornamento una volta scaricato l'aggiornamento ed eccolo qua ci clicchiamo sopra e lo installiamo quindi come ho detto se non puoi installare l'aggiornamento su windows update puoi farlo direttamente manualmente sul catalogo di windows update come puoi vedere è già installato nel computer quindi non posso andare avanti per chi è già installato nel mio computer quindi quello che mi resta da fare a me è aspettare un altro aggiornamento per windows 11 quindi grazie a tutti per questa visione se hai problemi puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao